dai 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 è arbitro dai Mirko dai Mirko bravo Mirko ma ti hanno bagnato tanto il campo c'è l'acqua hai visto l'acqua che c'è sul campo? si non ha annaffiato un sacco non abbiamo un guardalinea per uno? non lo mostro con loro se no ti sono già scivolati perchè li hai fischiati? ah beh no no va bene si deve suonare l'arbitro senti mi devi fischiare l'arbitro o no? mi sa di si qua mi ha messo tutti questi botti da destra tanto guardalo guardalo guarda mmm mmm , mmm Grazie a tutti.